Benvenuti nel mondo degli orologi Versace. La collezione di orologi Versace è stata lanciata nel 1994 e da allora ha catturato perfettamente l'essenza della moda di fascia alta e della qualità eccezionale. Questi orologi sono stati progettati per coloro che apprezzano la creatività della moda di lusso e desiderano esprimere il proprio stile personale. L'intera collezione di orologi Versace è suddivisa in diverse categorie, ognuna delle quali vanta una gamma di qualità estetiche e tecniche uniche. Ad esempio, l'orologio Versace Cleopatra da donna presenta un ampio cinturino in acciaio color oro con piccoli quadrati piramidali e un sorprendente quadrante in madreperla. Questo orologio è anche resistente all'acqua fino a 30 metri. La gamma Versace Jens include una selezione di orologi da uomo con una P leggermente più sportivo e caratterizzati da materiali come cinturini in ceramica, vetro zaffiro, movimento analogico automatico e chiusura deploiante con pulsante. I simboli dell'antica Grecia e gli emblemi della medusa sono posizionati sulla corona di ogni orologio Versace per trasmettere l'unità delle tendenze della moda passate e future. Questi sono anche simboli a cui Gianni Versace è stato personalmente molto ispirato. Ogni modello all'interno della collezione di orologi Versace incorpora un raffinato movimento svizzero che garantisce perfetta funzionalità, precisione e affidabilità.